Mi vuoi sposare? Vado dalla mamma. Vai a studiare da mamma? A vivere da mamma. E che mi dispiace che te ne vai. Anche tu. Anche a me mi dispiace. Vado se no, un perno in treno. Sì, sì. Anche rispetto. Sono mai mollato un po' all'improvviso, ma pazienza. Ciao Mario. In bocca al lupo. Viva il lupo. Tu sei rimasto solo e noi... Sorpresa! Ciao. Vai tranquillo, lo guardo io. Vabbè, a te chi ti guarda? Lo guardo io. Eh sì, a tutte e due vi guardo a Santa Pupa. Ah, ah. Marcellino, lo sai che non si può. Ah! Ma toccate lo sedere. È guarito! Miracolo! Amore. Ah, che c'è? Se volete vedere Marcello, credo che sarà contento. Anche perché in questi giorni si sente un tantino solo. A differenza di te, amore, che la solitudine non sai neanche che cosa sia. Mi dispiace che non mi avete trovato sull'urlo del suicidio, ma date tempo, no? Ce la farà il povero Leo giovedì alle 20.40 su Rai 1. No problem. Pazza famiglia 2. Pazza famiglia 3.40 su Rai 1.40 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 su R